Buonasera, facciamo il video del post partita a due questa sera con Luca Serafini che ringrazio e saluto. Ciao a tutti, buonasera. Luca, io ho titolato Non abbiamo fatto niente, cioè non abbiamo ancora fatto niente, voglio dire abbiamo fatto i gol, abbiamo fatto clean sheet, il Venezia è l'ultima squadra in classifica, abbiamo test molto probanti, come dicevi anche tu nel post partita di Milan TV abbiamo preso una boccata d'aria però stiamo ancora a pancia a terra e continuiamo a migliorare soprattutto la fase difensiva. Luca cosa ne pensi? Sì, è questo perché invece nel pre partita dicevamo che il malumore, la rabbia anche dei tifosi, l'insoddisfazione, la sfiducia non è nata nelle tre partite in cui hai fatto due punti ma ha radici lontane e quindi è ovvio che un 4-0 al Venezia che nel primo tempo onestamente ha dato una grande mano al Milan non può buttare tutta la polvere sotto al tappeto. Ci sono però delle cose cui aggrapparsi la costruzione del gioco, a me ho fatto la battuta a Fonseca in diretta, mi è piaciuto quasi di più l'atteggiamento nel secondo tempo perché i gol sono arrivati da un pasticcio del portiere perché poi rivista bene il tentativo di tirare quasi più di servirla in mezzo che di tirare in porta da un calcio d'angolo, da due calci di rigore che sono sempre il frutto ovviamente di un'azione offensiva ma nel secondo tempo il Milan ha difeso il 4-0 quando il Venezia ha riprovato a fare la partita c'era il rischio, noi conosciamo i nostri polli in senso lato che tendono poi a rilassarsi invece non lo hanno fatto ci sono degli aspetti positivi, l'aspetto negativo è che ogni volta che avanzava il Venezia qualche prurito ce l'avevi Sì, anche noi per la verità con l'autorete di Malik, col Torino e con il passaggio agli avversari su 1-1 a Parma abbiamo facilitato con dei nostri errori le prodezze degli avversari precedenti partite però insomma questo fa parte poi degli episodi, fa parte delle partite Luca, Tijani Reinders trequartista, nel primo tempo ogni volta che partiva era un pericolo e l'Oftus Cic oggi più equilibrato da Mezzala rispetto a quando l'avevamo visto l'ultima volta col Torino di fianco a Ben Nasser cioè oggi mi è sembrato più calato nel ruolo, cioè ha capito anche lui che la sua zolla può diventare quella e al fianco di Fofanà la calpesta meglio quella zona l'Oftus in mezzo e quindi dà più inventiva, più guizzi, più ripartenze, più sprint a Reinders la davanti la accendiamo? Beh, fra le tante cose che erano state rimproverate a Fonseca nelle prime tre partite era quello di aver spostato alcune peline fra le quali le più importanti erano Pulisic, Rendes e Loftus Cic rispetto allo scorso anno ed erano tre invece che avevano funzionato bene in proiezione offensiva invece oggi, anche quest'estate, si era visto questo spostamento di Loftus nel vivo del gioco a centrocampo e finalmente mi ha ascoltato essendo un cavallo al quale tengo molto si, ha cominciato a correre, a correre, a fare a sportellate, a fare a spinte, a far valere la sua fisicità la sua forza, la sua potenza e la sua tecnica e l'è stato più nel vivo del gioco tu hai citato il Torino, ma il Loftus di Parma è un giocatore che io non riconoscevo che non palpavo, che non sentivo, che non capivo mentre di Reinders sapevamo, capivamo che avendo visto le sue prestazioni in Olanda, anche e soprattutto nell'europeo e quelle recenti, che davanti ha più libertà se lo sente più nelle sue corde e in quel modo lì riesce a fare un elastico fra la tre quarti e il centrocampo che è più redditizio, cioè diventa un uomo aggiunto al centrocampo mentre partendo dietro non ha la struttura per fare il frangifrutti per assurdo contro il Venezia mi è piaciuto più l'Oftus di Fofanà perché l'Oftus Cic è entrato, ha fatto battaglie in mezzo Fofanà mi è parso studiare un po' di più la situazione credo che cominci a capire Fofanà che più che la fisicità che l'Oftus Cic fa pesare in Italia in mezzo al campo contro la tattica assolutamente senti Luca, mi è sembrato di vedere quando è uscito Rafa che ci tenesse a rimanere in campo per fare gol io ricordo sempre, ti ricordo l'11 maggio 2001 vincevamo 6 a 0 e Cesarone Maldini chiamò fuori Shevchenko che non voleva uscire perché che voleva rimanere in campo per fare gol e Leonardo che entrava al suo posto dai 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 esci calma avevamo una partita poi quattro giorni dopo con la Fiorentina qui adesso ce l'abbiamo con il Liverpool però io su questo voglio dirti di Leao dicono tutti che Massi è dinoccolato sembra che sorrida sempre sembra che non gli interessa invece oggi e trovare il talento portoghese cattivo che vuol far gol non è semplice lui secondo me voleva rimanere in campo per far gol poi è stato meglio ha fatto bene il mister a iniziare a pensare a Milan-Liverpool però lui intanto la cosa che non ha fatto gol ce l'aveva dentro ha fatto assist oggi come l'aveva fatto a Parma e aveva fatto gol con la Roma ecco questa cattiveria nel pensare al gol è una cosa in più che gli sta crescendo dentro beh io glielo auguro lo spero perché ho visto anche una sua collocazione di stasera diversa dal solito ha rinculato spesso sulla linea di centrocampo gliene ha dato altro anche Fonseca esatto addirittura sulla linea difensiva si accentra cambia posizione anche sui calci d'angolo ha più partecipazione non è che secondo me Leao e Tio Fernandez sono i due giocatori migliori del Milan questa è la mia idea spassionata con megnano è chiaro che loro giocatori di campo certo è chiaro che la continuità la presenza e la non voglio dire concentrazione la tigna deve avere continuità deve avere nei 90 minuti e nel rendimento se Leao che tu hai giustamente ricordato intanto in quattro giornate già due assist e un gol ecco continuasse ad ampliare questa sua numerica diventerebbe un giocatore di livello mondiale assoluto e quindi è un po' anche lui che deve scollarsi di dosso questo però comunque ciò non toglie che le cose decisive in una partita del Milan sono spesso e volentieri di Leao allora anche stasera la curva ha cantato tutti i 95 minuti anche stasera c'erano 70.000 milanisti a San Siro tu hai auspicato che adesso arrivino anche la quota restante di biglietti per Milan Liverpool è così adesso un po' di fiato l'ho preso ok ti chiedo questo la squadra come atteggiamento mister Fonseca da noi a Minantivi dopo la partita ha detto mi è piaciuto il lavoro che i ragazzi hanno fatto senza la palla quindi lui vuol vedere sempre la squadra lavorare e non sempre abbiamo lavorato così nelle prime tre giornate ripeto non abbiamo fatto la partita miracolosa e spettacolare della vita però come atteggiamento quello che dovevamo fare stasera che era quello che la curva ha un po' chiesto alla squadra quando il pullman è arrivato allo stadio l'abbiamo fatto Luca io l'ho detto lo ripeto l'ho visto fare più nel secondo tempo quando praticamente la partita è finita allora si è fatta una partita di allenamento per il Venezia per il Milan non alla pari si è ripartiti da 0 a 0 il Venezia ha provato a fare quello che voleva fare però al pressing alto l'ingresso dei giocatori che erano in panchina mi sono piaciuti tutti Ocafor Cucuizze Musa Morata questi sono i segnali di coesione aggiungo e concludo anche le parole di Matteo Gabbia a fine partita mi sono piaciute ci siamo guardati negli occhi abbiamo detto qui bisogna cambiare Fonseca ha detto quando abbiamo visto l'accoglienza che ci hanno riservato i tifosi all'arrivo del pullman fuori dalla dalla discesa che porta sotto il garage poi negli espositori ci siamo detti noi dobbiamo ha detto retribuire questa passione sì ecco e questo è quello che è avvenuto stasera ripeto al netto dell'avversario degli sbandamenti che ha avuto eccetera a me non sono interessati i risultati delle partite estive mi interessava l'atteggiamento non mi interessa il 4 a 0 del primo tempo mi è piaciuto l'atteggiamento del secondo Luca grazie e speriamo bene per la prossima settimana ciao grazie